Per una piccolissima parte del nostro percorso, fianco a fianco, col Vice Presidente del Consiglio Gianfranco Fili. È triste e grave, ma è così. Nell'ambito della più composita e inquietante proposta di legge sulle droghe, l'onorevole Fili ha invitato i gruppi musicali a smetterla con l'incitamento verso i giovani all'uso di sostanze stupefacenti. E noi su questa sua piccola affermazione apparentemente insignificante, becera, ci troviamo ad essere fortemente d'accordo con lui. E ora che i gruppi musicali la smettano di decantare le doti della ganja, la smettano di invitare i giovani a provarla perché tanto è come il vino. La smettano immediatamente, a partire da noi. Perché quando la ganja se la fumavano in pochi, la ganja era buonissima. In Calabria c'era una ganja con certe punte rosse e certa muffa tutta attorno. Ti facevi in mezzo spinello e ti dovevi addormentare sull'autostrada mentre te ne tornavi a Napoli perché altrimenti vedevi i mostri. Costava 200 lire al grammo! Oggi nell'erba rossa calabrese non c'è più traccia. E con 200 lire al grammo ti puoi procurare al massimo un grammo di proiettili davanti dello spacciatore. Sto ti presenti con 200 lire e lui ti spara. Questo dipende da un fatto. Dipende cioè dal fatto che tantissimi giovani nel corso di questi ultimi vent'anni hanno imparato ad apprezzare le dosi della marijuana e dei suoi derivati. Per cui essa stessa è diventata un business. La qualità è andata persa e il prezzo si è quintuplicato. Noi siamo per una società dove noi fumiamo un sacco di cance a gratis a spese della comunità internazionale e chi non fuma si fa i cazzi suoi. Per cui lungi da noi il poter invitare chiunque a fumare. La nostra posizione è non chiediamo rispetto. Non chiediamo che capiate. Non chiediamo tolleranza. No, chiediamo droga pur che sia in abbondanza. Ah, è bene tu. Il mio nome è Giulio e sto tutto drogato. Se mi incontri per la strada sto sconvolto e garantito. Già che neanche mi arrischio fuori se non sto drogato. La giusta distanza tra me e sto mondo malato. E non ce ne voglio ad essere angustiato. Non so se mi fa bene o male, non mi ha mai forzato. Non solo che ti piace, mi sono apprezzato. Sto bene e ne vanto, non voglio essere arrestato. Tampoco me l'orgoglio che hai mai sentito. Sono quello che sono e non voglio essere giudicato. perché io cosa mi ha piangato a praticare nel privato. Sono cazzi miei giù, non ti ho mai interrogato. E non ce ne voglio. E non voglio convincere chi non ha mai provato. E c'è i miei giù troppi e c'è mannetto un vado. Voglio solo tutta la cangia. Ma senti sul mercato che per fare un po' di fumo me ne serve a scontenare. Cancia tonalata, cancia tonalata. E non voglio che approviate, voglio cancia tonalata. Cancia tonalata, 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 cancia tonalata. Il problema della gancia è quanto costa e quando finisce. Ganja smogga, vuole la gancia. Ne vuole tanta, non tiene cash, abbastanza. E poi la finanza, in pesta dello, è una scena trash. Ganja smogga, ha 34 anni, se è brutto cazzo e fessa la stanza. e vuole sfumare tranquillo, ma la morte mia è il caramello, allo fumare non mi stanco mai e già sai che quello che tu chiami sballo, a ganja smoca apre il cervello, ganja smoca non sta mai fatto pure se fuma tutto il panetto, perché non gli serve a star fuori, ma a starci dentro è chiaro il concetto? A ganja smoca non serve rispetto, serve la ganja, almeno un chiletto da consumare un altro chiletto da trasformare, un terzo chiletto per cucinare, un altro chiletto ad offrire agli amici e infine un cielo sto per digerire e un'altra caccia al suo caso in città soloi sciac, tipo ngaccia al che corretto in túngac la man sotto caccia, dolso caccia, non sottpero i paramet, che sono che sta per il tuo ganja smocaen, giusti never sensibile Grazie per la visione Grazie per la visione